Il Paradisi delle Signore Otto, torna a Marta Guarnieri, Gloria Radulescu? Se anche tu eri amareggiato per il finale di storia di una storia tra Vittorio, Alessandro Tersini, e Marta, Gloria Radulescu, forse le tue preghiere sono state esaudite. Si vocifera infatti che la ragazza di Villa Guarnieri, cresciuta a pane, grazia, talento e caparbietà, tornerà a Milano e nel Paradisi delle Donne. Cosa ti fa pensare? Innanzitutto la storia emersa sui social nelle ultime ore è che il personaggio Marta inquadra la sceneggiatura attraverso battute che toccano Vittorio e Tancredi, quindi è difficile immaginare un omonimo. Infine, e soprattutto, la sinossi che la stessa Rai ha comunicato in fase di programmazione del programma è stata la seguente. Poi diversi attori hanno rilasciato dichiarazioni criptiche sul ritorno dei personaggi del passato. Riuscirà Vittorio, ancora una volta, a salvare sua figlia, e allo stesso tempo a conquistare l'unica donna per forza e coraggio dopo Marta? Amore? La risposta potrebbe non essere così scontata e riservare un clamoroso colpo di scena. Menzionare il nome di Marta, uscita di scena ormai da ben due stagioni? Annunciare un'evoluzione non scontata nel rapporto con Matilde aveva già insospettito più di qualche spettatore, ma dove eravamo rimasti? Marta. In seguito alla notizia di non potere avere figli e dopo un'esperienza temporanea in America dove era stata per aggiornarsi in campo lavorativo e dove aveva conosciuto Dante, Luca Bastianello, aveva provato a tenere in piedi il matrimonio con conti di ritorno dagli Stati Uniti ma Alla fine di due stagioni fa, il bisogno di affermarsi nel campo della fotografia e il nascente sentimento per Romagnoli avevano avuto la meglio. A quel punto, di comune accordo col marito, Marta aveva lasciato nuovamente l'Italia per raggiungere il nuovo continente e dopo alcuni mesi la storia dei due coniugi era stata definitivamente chiusa con un appuntamento a Parigi e una richiesta di annullamento delle nozze. Oggi Vittorio sembra innamorato del suo lavoro e di Matilde. Chiara Baschetti Che nonostante potrebbe richiamare a sé mostrando le prove schiaccianti contro il marito Tancredi, Flavio Parenti Continua ad amare a distanza senza interferire con la sua vita matrimoniale E quando finalmente la verità sul conte Santerasmo verrà fuori e Vittorio e Matilde riusciranno a parlare, e se Marta tornasse e dubitasse di tutto Cosa succede quando la giovane Guarnieri torna a Milano, pentita di aver lasciato il marito, solo per scoprire che questi è innamorato di un'altra donna? Se avete le pulci nelle orecchie non vi resta che guardare con noi la prossima puntata di Ladies Paradise e fugare ogni vostro dubbio